Ciao a tutti Guerrieri e Guerrieri Sailor, io sono Ferdi Anderson, gran fan di Sailor, un primo video del mese di novembre. In questo video di giovedì, primo novembre 2018, vedremo finalmente, vedremo un video un po' diverso, l'unboxing di questo pacchetto della Kinder Sorpresa insieme alla sorpresa dei puffi, dei Smurfs, quindi chiedo scusa per questa posizione, questa è la packaging, si presenta così, ovviamente i 50 anni della Kinder. La Coop non vende più i Kinder Maxi, hanno sostituito già quelli dei puffi con quelli di Natale e ho trovato solo questi, tanti di questi ce sono, quindi noi apriremo in questo video solo quelli dei puffi. Quindi alla ricerca del... Ecco, non si aprivano, come mai? Allora, vicino alla scadenza dovrebbe esserci... vediamo un po'... Eccolo qui, chiaraccio, quello con il puffo dentro, tanto noi sappiamo che... Per ora, vedete... Aspettate, c'è la luce... Eccolo qui, KKK... La sorpresa principale è con questo... Ehm... E' con questo... E' qui, con questo codice... Apriamo... Sicuramente... Ehm... Sicuramente... Mi uscirà... Io non spero niente, però mi uscirà... Lo so io già... Eccolo qui... Questo me lo mangio dopo, eh... Ehm... Eccoci, è uscito un doppione... E' uscito quello che mi è stato... Dato... Ehm... Cioè, mi è uscito mia sorella... Ehm... E quindi il primo doppione... Ehm... Mia sorella e il fidanzato... Ehm... Praticamente mi manca questo... Ehm... Sabato, lunedì... Ieri... No, lunedì... Mi è venuto portandomi questo puffo qui... Praticamente io ce l'ho... E... Ehm... Ora non so il puffo come va... Perché me l'era già tutto bello... Ehm... 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 ? Vab'è, è uscito un doppione... Noi lo sapevamo... Allora non capisco se questo gli è venuto... Mi manca un pezzo. Mi sa che non manca un pezzo, no? Questa è tutta attaccata, perché al puffo lo dovremo mettere... Forse è qui? Torno subito. Facciamo prima. Eccoci qui. L'ho riuscita a montare. Sono tutti i pezzi. Come potete vedere il puffo fa così. E questo è il mio secondo puffo. Di questo mia sorella non l'avevano portato. Comunque nella libreria dove ho le cose dedicate all'università metterò insieme al secondo quattro occhi. Puffo radiologo. Lo metterò insieme lì, perché già nella libreria dove sono tutti i puffi inediti manca assolutamente questo. Questo lo porto di là. Quindi, come ho detto, lui mi manca o tutti, tranne lui. Ora sarà molto difficile. Sarà molto difficile. Io pensavo che uscivano altri doppioni. Mi è andato ad uscire questo. Vabbè, abbiamo tre puffi pompieri, praticamente. I puffi gemelli. Vabbè, lui non è un pompiere scalatore. Quindi sono lui, l'altro, il gemello e quello che è uscito nell'uovo maxi. Quello con la macchinina, diciamo così. Non so il senso di farlo qui sopra, ragazzi, ma ho i miei dubbi, diciamo così. Vabbè, questo gira, come dice l'illustrazione. Il puffo fa la lap dance, mi sembra. I maggiorenni sanno cosa intendo dire quando dico lap dance. Non posso dire perché c'è un pubblico anche minorenne. E quindi non penso sia facendo quello lì, il ballo. Vabbè, non so il senso di metterlo qui. Allora, da Facebook a Telegram, tutti i miei social network, li trovate... Aspettate un attimo il puffo mi casca. Ok, li trovate nell'info box. Serum fans via Amazon, il mio secondo canale è Random Tuber Voice. Domani, che è il 2 novembre, vi comunico che ci saranno a live su questo canale. Penso dalle 5-5 metri in poi. Non so se sarò da solo o sarò in compagnia di altri youtuber. Ehm... I ragazzi del Serum Team, da FromWarmateChannel a Trice. Li trovate tutti nell'info box greco, Shinigami Peer, Squarcio nel Turbo, Tranne, ovviamente, Squarcio nel Turbo, che... Ancora... Non c'è. Io e il Puffo vi salutiamo e ci vediamo domani con questa live. Ciao ragazzi! Ciao ragazzi! Ciao ragazzi! Ciao ragazzi! Ciao ragazzi! Ciao ragazzi!